Ehi, bentornati! Ci occupiamo di nuovo di Erdogan, viva! Anzi, prima di tutto, perché continuiamo a parlare della Turchia? Chi se ne frega della Turchia? La Turchia è importante perché i suoi rapporti con l'Europa si stanno di nuovo facendo molto stretti a fronte di due fattori. Uno, gli accordi sui migranti che sono stati stretti tra l'Unione e Ankara che, riassumendo molto, è un vi tenete il problema voi, fate voi i campi profughi e poi piano piano mandati in Europa soltanto i richiedenti asilo, un pochino. E due, il fatto che mentre in Europa molti partiti di estrema destra sbattano i piedi per uscire dall'Unione, la Turchia ci voglia invece entrare, anche se tutti quanti hanno per ora il piede fossilizzato sul freno per quanto riguarda questa cosa, specialmente alla luce delle politiche liberticide e iperconservatrici portate avanti negli ultimi anni, io sono perfettamente d'accordo per quello che vale, la Turchia ha del lavoro da fare prima di poter entrare in Europa, quindi è palese che il suo leader non mi stia particolarmente simpatico. Ok? Perché in generale non mi sta simpatico chi inverte il processo di laicizzazione di qualsiasi nazione, che sia questa cristiana, musulmana, pastafariana, e devo fare come in Italia, ogni volta che dici qualcosa prima devi mettere le mani avanti, non voto questo partito, non sono del PD, non sono milanista, non mi pagano per dirlo, bla 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 e così per tutto e tanto comunque non serve mai niente. Tutti a tirarsi addosso a fango e merda per il fatto che Erdogan abbia recentemente affermato che nessuna famiglia musulmana dovrebbe utilizzare contraccettivi, invitando le donne turche ad avere almeno tre figli. Ora, apprezzo particolarmente quando un leader dispotico, autoritario e sensibile alle critiche sul proprio aspetto fisico, invita il proprio popolo a scelte di vita discutibili come quella di non pianificare attentamente se, quando e come avere figli. Meglio che ne nascano tanti, sai com'è, ma è fantastico che ora i commentatori del martedì pomeriggio si stiano scatenando su questa cosa, annunciando che sia un piano dell'Islam per invadere l'Europa. Punto uno, non è un piano dell'Islam perché Erdogan non è un leader spirituale, è un leader politico. Non è un imam, è un sultano ottomano wannabe con un pessimo gusto per il colore degli abiti. Punto due, la chiesa ha detto la stessa cosa sino a sette secondi fa. La chiesa cattolica, quella che fa un casino quando si parla di usare preservativi in Africa. Papa Francesco soltanto a febbraio di quest'anno aveva suscitato clamore affermando che la stensione a procreazione fosse un metodo migliore, quindi non ok, soltanto un metodo migliore dell'aborto. Ovviamente per far fronte all'epidemia del virus Zika che colpisce i bambini ancora nel ventre materno. A febbraio, e tutti wow è diventato pazzo, è un papa progressista. Poi arriva Erdogan, dice fate più figli e tutti a dire che l'Islam è brutto perché nega diritti ormai diventati consuetudine nel mondo occidente. Fantastico. Mi fa male il cervello. Parlando di altre cose interessanti, ricordando a tutti che comunque Hey Ya, il brand lanciato da me, tra le altre cose vende questo design di Baphomet versione DJ su una locandina per la fine del mondo, insomma, c'è questo, siccome stiamo parlando di Europa, Eurovision. Ne abbiamo parlato recentemente, vista la conclusione iperpolitica dell'evento, come sempre, del resto e del fatto che non abbiano fatto vincere la Bulgaria, come sarebbe dovuto essere. Ma recentemente The Fine Brothers, i famosi youtubers, hanno fatto uno dei loro react, chiedendo ad altri personaggi noti dal web, e ne conosco tipo due peraltro, perché ormai sto diventando super vecchio di guardare alcune delle esibizioni in gara e di commentarle. Lo lascio in descrizione perché è sbalorditivo quanto fantastica sembrino a trovare l'idea alla base di Eurovision, che è peraltro nato ispirato al festival di Sanremo, lo sapevate? Eurovision è nato appunto per promuovere la pace a seguito del secondo conflitto mondiale. La fanno dal 56 sta roba. E loro la trovano fantastica, come io ho osato affermare che la pace e la coesione dell'Unione e dell'intera Europa, passi anche da eventi come questo, mi sia lanciato addosso di tutto. Ma è così. Progetti come questo mettono le radici nell'idea grandiosa che si aveva di Europa, ideali di pace e di unità, che non bisogna assolutamente perdere in un periodo come questo. Inoltre, seriamente, Bulgaria. Bulgaria tutta la vita e PowerFranchise a Eurovision 2017. Hashtag PowerFranchise a Eurovision 2017. Parlando di altre cose fantastiche, ti faccio un po' di pubblicità, caro amico mio leghista bolognese, che a giudicare dalla sua poco seguita pagina Facebook, ma la risolviamo sta cosa, si lancia in campagne anti moschè, ottima scelta, politiche intelligenti, che finisce qui grazie a una serie di video divertenti con tanto di green screen e in uno di questi fa proprio youtuber fingendo una televendita nella quale propone di andare a pestare, con passamontagne e manganello, chi occupa le case. Quindi, due parole su questo, veloci veloci. Ora, come al solito, fonti in descrizione, ma mi raccomando, niente insulti tipo quelli che già si becca di brutto e che lo minacciano di botte, keep it classy, perché il problema è proprio quello, l'istigazione alla violenza, l'imbarbarimento della politica. Non è una questione di contenuti, io detesto, ad esempio, chi occupa le case, la trovo una pratica inaccettabile ed è scandaloso che ci siano frange politiche che la considerano una scelta condivisibile e sono pure favorevole, in linea di principio, alla chiusura dei campi rom, che sono delle enclavi nelle quali la gente vive in condizioni inaccettabili. Non dovrebbe succedere. Quindi, di nuovo, ecco le mani avanti. È il gesto, però, il problema. Il dibattito politico deve liberarsi di sta roba qui, dello sdoganare la violenza, anche solo come provocazione. Perché le provocazioni, che significa minchiate, alcuni le capiscono, alcuni non le capiscono e alcuni, invece, le interpretano come autorizzazione a essere violenti, specie quando sono frequenti, specie quando si usano termini come ruspa, come bruciare, come invasione. Ah, è bel manganello telescopico, amico mio, poi un giorno mi spieghi che te ne fai. Comunque, tra le altre cose interessanti oggi, il Guardian lancia un nuovo allarme a seguito di un report stilato da gastroenterologi europei, con dati provenienti da 46 nazioni, facendo sapere che un bambino su cinque, tra i sei e i nove anni, è attualmente obeso e che, se non cambia nulla, il numero dei bambini sotto i cinque di anni che sono sovrappeso, salirà dai 41 milioni attuali ai 70 milioni nel 2025. È una cifra enorme, io non riesco a credere che questo problema nel 2016, in questa parte del mondo, sia in aumento e non in diminuzione, visti i mezzi che ognuno di noi possiede. Non sono assolutamente il tipo che, pur non avendone, dice agli altri come crescere i propri figli, ovviamente, lo sapete bene, anzi, pena di morte vi addrago a chi lo fa. Mi sono profondamente rotto il cazzo di questa cosa. Ma a sto punto credo che sia pacifico che i problemi vadano ricercati nelle famiglie. Tenete presente che parliamo di bambini così piccoli che è impossibile la loro condizione sia dovuta a fattori di salute, ed è anzi causa di problemi di salute apparentemente così gravi che incidono fortemente su quanto le nazioni europee spendono in sanità pubblica. Wow. Inoltre, visto che ci piacciono tanto tanto i numeri, che poi ci piace allo stesso modo ignorare, dicendo robe tipo Naaa, sono gli altri, io non vedo così tante persone obese, quindi la mia esperienza è sicuramente indicativa dell'esperienza di tutti gli altri, è così che funziona la scienza, no? È uscito l'European Drug Report 2016, che analizza i comportamenti sull'uso di droghe. Drug report in Europa. European 2016, che sta a significare... 2016. Insomma, un po' di quelle metriche interattive che ci piacciono tanto e ci rendono così affascinanti, tipo come fa la cocaina ad arrivare in Europa? Via aria, via terra e via mare. Hanno addirittura fatto un video che riassume la situazione, che al momento ha 86 visualizzazioni per qualche ragione, che si traduce in, sorpresa sorpresa, stiamo perdendo la guerra alle droghe. Il mercato rimane solido, la cannabis è la droga più usata, a seguito della cocaina, c'è un aumento dell'abuso di farmaci per ragioni diverse da quelle per le quali vengono venduti, c'è un ritorno delle medie MA del quale tutti quanti si erano già accorti da un casino di tempo E, altra grande sorpresa, c'è una grossa produzione di sostanze in Europa, che significa a casa di un tizio che conosce un altro tizio, o in un mercato ortofrutticolo, volendo dar retta a Gomorra la serie. Il video, inoltre, mentre parlo, non ha commenti e ho dovuto lottare con me stesso per non scrivere primo, seguito dalla solita cagata di punti esclamativi e uno. Stavo per farlo, ma non l'ho fatto. Sono un uomo adulto. Sono orgoglioso di me stesso. In ultimo, c'è un caso di cronaca che sta facendo molto parlare non tanto per le feratezza in sé, perché la gente in tardissimi casi fa schifo e non è una novità, ma per la reazione che alcune persone che lo hanno visto accadere hanno avuto. O sarebbe meglio dire non hanno avuto. Mi riferisco all'omicidio avvenuto pochi giorni fa a Roma, compiuto da un 27enne. Questo tizio qui ha i danni della sua ex fidanzata, Sara di Pierantonio. Questa ragazza qui, studentessa di 22 anni, alla quale l'eroico ex compagno ha dato fuoco con l'alcol dopo averne tracciato i movimenti tramite un app sul cellulare. Immagino qualcosa tipo, trova il mio iPhone, averla aspettata tardanotte e aggredita per strada, verso le 4.30 del mattino. Per capirci, lei tornava con la macchina, lui l'ha speronata, uccisa, poi è scappato. Il tutto in circa un quarto d'ora di tempo. In quel quarto d'ora sono passati due scooter, poi i tizi che li guidavano rintracciati e interrogati, visto che non si sono fermati a prestare aiuto, nonostante fosse palese la necessità che qualcuno prestasse aiuto, ne hanno pensato di chiamare la polizia. Ora, andiamo oltre quelli che dicono che se fosse stato per loro sarebbero scesi dalla macchina e immediatamente avrebbero distribuito calci rotanti, perché non è vero. La maggior parte delle persone non fa questa cosa. Una volta io ho fermato un pestaggio ai danni di un ragazzino in un quartiere di merda della mia città, 700.000 che lo pestavano mentre era in terra e attorno era pieno di gente, nei bar, ad attendere l'autobus, che non ha fatto niente, non ha detto niente. E come è arrivata la polizia? Chiamata da me, se ne sono andati tutti. Quindi, guarda caso, gli eroi sono sempre e solo sui social, perché uno in realtà ha paura. E lo capisco, è perfettamente comprensibile. Quello che mi devasta è il totale disinteresse, il non chiamare nemmeno la polizia, anche solo in un'ottica di non si sa mai, ma non solo quello, anche questa fesseria che in tanti ora stanno dicendo sul fatto che Roma abbia perso le sue radici, che prima tutti ti aiutavano, ora invece c'è il degrado, la povertà, bla 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 bla. Ho sempre odiato questi discorsi, perché mi ricordano chi dice, ad esempio, che sì, fuori sarà anche tutto bello, Londra dà tante opportunità, quanta gente dice questa roba qui, ma lì non hanno il cuore, perché sono distanti, sono freddi, non sono calorosi come gli italiani. Dov'è l'affetto? Ecco qui dov'è l'affetto, non c'è nessun affetto, le persone sono persone. Ci sono quelle distanti, cacciarone, calorose, fredde, ma queste cose non hanno niente a che fare con il cuore della città. Una persona in difficoltà è una persona in difficoltà, punto. Nessuno deve fare l'eroe e lanciarsi sotto il fuoco di una mitragliatrice, ma una telefonata alle forze dell'ordine la si può fare lo stesso, il degrado e la paura e la povertà che avrebbero travolto la capitale negli ultimi anni non c'entrano niente. E questo a gentaglia è tutto per oggi, grazie per aver guardato, grazie a Barbara che è una studentessa di Catania no, non è vero, è di Messina, però studia a Catania, sto facendo un casino. Di Messina, ma studia a Catania, studia a Medicina, quello è il mio logo su un testo di pneumologia che, vabbè, qualsiasi cosa, quindi grazie per essere la regina di oggi e grazie a tutti per essere arrivati fino a qui. Io sono ShutaHatesYou, questo era Breaking Italy, link in descrizione, commenti qui sotto e ci vediamo domani alle 18, come al solito.